Buona giornata, bentrovati a Ultima Tg, lo sentivamo dai titoli di copertina. Apriamo con la cronaca con la testimonianza forte di un professionista che ha deciso di raccontare ai nostri microfoni in esclusiva la terribile vicenda che lo ha visto protagonista il giorno di Natale. È stato selvaggiamente picchiato da quattro persone davanti alla moglie e ai figli. Sentiamo la testimonianza raccolta dalla collega Giorgia Mosca. Io sono stato aggredito davanti a casa, sotto gli occhi dei miei figli minori, di mia moglie, soltanto perché 12 ore prima, avendo passato la notte a casa con la mia famiglia, mia madre disabile, anziana, non poteva uscire da casa mia perché una macchina costruiva il passaggio. Si è fatto vivo il proprietario, il quale è sceso tra mille minacce e tra fare mafioso e delinquenziale e quindi chiamo la battuglia della polizia. Calci, pugni, ginocchiate, un solo messaggio chiaro. Qui comandiamo noi e tu devi adeguarti. È accaduto a Catania, nel centro storico della città, un'aggressione gratuita per una semplice richiesta di un cittadino comune. Non parcheggiate davanti il portone di casa mia, consentitemi il passaggio. La sua presenza e quella della sua famiglia non sono gradite. In quel quartiere la quotidianità scorre nell'illegalità, fra spaccio, droga e prepotenza. Il giorno dopo sono a pranzo da altri parenti, esco di casa e il proprietario dell'auto vuole soddisfazione del perché io abbia chiamato la polizia. Minacce, una parola, tira l'altra. Vengo aggredito da quattro persone, quasi tutte tranne qualcuna, tra l'altro di mia conoscenza. E vengo quasi ucciso. Non so per quale veramente miracolo, probabilmente perché sono rimasto fino all'ultimo in piedi. Lui non doveva permettersi di parlare, ma solo sottomettersi alla volontà di chi in quel quartiere ci abita da più tempo. Lo hanno pestato il giorno di Natale sotto gli occhi dei suoi bambini. Oggi Asporto denuncia e adesso ci sono tutti gli estremi per il tentato omicidio. Nei prossimi giorni sarà nostra cura preparare una querela formale. È stata una spedizione punitiva messa in atto da degli individui dotati di vigliaccheria. Il mio assistito ha dato un esempio di come un padre deve comportarsi, di come un marito deve comportarsi in presenza di situazioni così difficili. Sì, perché ha scelto di non reagire, evitando di rispondere a violenza con violenza. Gli hanno rubato tutto, dal cellulare all'orologio, al denaro. Ma c'è un elemento che colpisce ancora di più. Non credo che bisogna avere paura di essere onesti. Bisogna avere paura di essere disonesti. Mi ha sempre dato fastidio il forte che fa il forte con il debole. È accaduto sotto gli occhi di sua moglie e dei suoi figli, ma c'era anche altra gente che è rimasta a guardare. Ovviamente, perché questi sono degli spettacoli gratuiti in cui il biglietto non si paga. Avere il posto in prima fila, godersi lo spettacolo fino alla fine, è fondamentale. Adesso andiamo a Palermo per un altro caso di cronaca. Sembrerebbe un vero e proprio giallo la morte di Giuseppe D'Arpa, l'uomo di 76 anni ritrovato all'interno del suo appartamento a Palermo in una pozza di sangue. È stato aperto il fascicolo di omicidio da parte dei carabinieri che conducono le indagini, ancora tante le ipotesi e le piste al vaglio degli inquirenti. Continuano le indagini sull'omicidio di Giuseppe D'Arpa, l'uomo di 76 anni ritrovato all'interno della sua abitazione di via Camarda a Palermo in una pozza di sangue. Intorno alla morte dell'uomo, ex pensionato delle poste che tutti conoscevano come il professore, c'è dietro un vero e proprio mistero. L'uomo è stato ritrovato con profonde ferite alla testa e lividi all'addome all'interno del suo appartamento chiuso a chiave da una porta blindata. Nessun segno di effrazione, gli investigatori però sono convinti che sia stato aggredito. Da qui l'apertura del fascicolo per omicidio. Ancora inspiegabile, resta anche il movente. Esclusa la pista della rapina, perché la cassaforte all'interno dell'appartamento non è stata toccata. Dalle indagini condotte dai carabinieri è però emerso che a D'Arpa non potrebbero mancare dei nemici, per il suo carattere definito irascibile da chi lo conosceva. Un carattere che lo ha coinvolto in precedenti vicende al centro di inchieste giudiziarie. Sembrerebbe infatti che la vittima fosse sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un episodio di resistenza pubblico ufficiale. Per chiarire i contorni della morte del pensionato, i carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Amelia Luise contano adesso sui rilievi scientifici fatti all'interno dell'abitazione e sull'esito poi dell'esame autoptico. Intanto sono già stati ascoltati i familiari e amici della vittima, tra cui la donna che avrebbe lanciato l'allarme. Dopo aver suonato ripetutamente al campanello di via Camarda è stata infatti l'amica della vittima ad allertare i carabinieri e i vigili del fuoco, che entrati da una finestra hanno rinvenuto il cadavere dell'anziano vestito e sotto il suo letto. Adesso resta da capire da dove l'ipotetico aggressore sia potuto entrare a casa della vittima, ma soprattutto uscire. Adesso parliamo di un altro caso di omicidio, questa volta a Catania proseguono le indagini sull'omicidio di Enzo Valenti. Il giovane 21enne vittima di un agguato in piazza Palestro a Catania è morto durante il trasporto in ospedale. Intanto sulla pagina Facebook del ragazzo si moltiplicano i messaggi di affetto, ma c'è anche chi chiede giustizia. Sentiamo Damiano Scala. Non ha ancora un nome né un cognome l'assassino di Enzo Valenti. Il 21enne colpito con un colpo di revolver nella notte del 20 dicembre in piazza Palestro a Catania è morto dopo inutile corso in ospedale. Gli interrogatori degli inquirenti continuano tra amici, parenti e semplici conoscenti del ragazzo. Domande e risposte che comincia a ricostruire il fitto puzzle dei fatti di quasi due settimane fa. Per ora bocche cucite dagli inquirenti che non escludono nessun tipo di pista. Sotto a rende di ingrandimento delle forze dell'ordine ci sono anche i video delle telecamere di sorveglianza sparse per tutta piazza Palestro. Intanto sul web amici e parenti chiedono giustizia per il ragazzo che non ha precedenti specifici. L'esatto contrario del padre Maurizio Valenti, già noto alle forze dell'ordine dal 2006, quando fu arrestato nel maxi blitz dell'operazione Atlantide che ha zerato il clan Pillerapuntina. Sulla pagina Facebook di Enzo Valenti i messaggi di affetto sono decine. Tutti ricordano le qualità del giovane e qualcuno chiede anche vendetta. Un clima d'alta tensione è continuamente monitorato dalle forze dell'ordine per evitare che qualcuno possa pensare di farsi giustizia da sé. Vendette trasversali già successe in passato all'interno del rione Fortino di Catania. Torniamo a Palermo per un altro fatto di cronaca. Inche ho dato dalle immagini di video sorveglianza. Uno dei due rapinatori della sede bancaria Unipol di Palermo. Un bottino da circa 9.000 euro ha avuto minacciando gli impiegati con un taglierino. La polizia prosegue le indagini per trovare il secondo uomo. Sono in due e fanno il colpo meno di due giorni fa. La rapina è in una delle sedi della banca Unipol di Palermo che frutta 9.000 euro ottenuti dopo aver minacciato gli impiegati. Ma qualcosa nel meccanismo si inceppa perché le immagini interne di video sorveglianza dell'istituto bancario di Via Marchese di Villa Bianca inchiodono uno dei due. Il pareritano Girolmo Torres è di 49 anni. Dalle riprese si vede chiaramente che uno dei due uomini aveva fatto eruzione in banca armato di Taglierino. Tramite le immagini del circuito di video sorveglianza della banca e le testimonianze raccolte dagli impiegati, gli agenti del commissariato di polizia hanno riconosciuto perfettamente uno dei due rapinatori che è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato parte del bottino in una busta intestata all'istituto bancario rapinato, alcuni indumenti utilizzati e un paio di occhiali indossati durante la rapina, oltre ad una pistola giocattolo senza tappo rosso. Torres è stato quindi portato nel carcere Pagliarelli, ma la polizia prosegue nelle ricerche del complice. Si sappia che non è la prima volta che nella sede Unipol viene fatta una rapina. L'ultima volta infatti è accaduto meno di sei mesi fa. Sempre a Palermo i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un uomo nato nello Sri Lanka, residente a Palermo e responsabile dei reati di furto aggravato e in debito utilizzo di carta di credito. I carabinieri hanno accertato che il giovane fra fine settembre e metà dicembre, periodo in cui svolgeva l'attività lavorativa nell'abitazione di un ultraottantenne nella qualità di collaboratore domestico, si era appropriato del bancomat della donna che aveva effettuato diversi prelievi non autorizzati per un totale di 18.400 euro, prosciugando così il conto dell'anziana signora. Adesso andiamo a Messina, è scattato alle prime luci del giorno il blitz per eliminare i falò già pronti in alcuni quartieri popolosi di Messina. Ben tre tonnellate di legna sono stati raccolti da Messina Ambiente sotto la supervisione della Polizia Municipale. Ci racconta tutto Carmen Di Per. Un capodanno senza fallò a Messina appare proprio così, con certamente la delusione degli appassionati di questa malsana usanza che stamani si sono svegliati senza più vedere le cataste di legno accumulate nei giorni scorsi. È scattato infatti all'alba di oggi il blitz della Polizia Municipale per eliminare, con il supporto di Messina Ambiente, quella sorta di discariche a cielo aperto che erano state create al villaggio Aldisio e a fondo fucile. Le ruspe hanno lavorato un po' prima di togliere tutto, i cassoni colmi di ben tre tonnellate di materiale lo hanno poi portato via per l'opportuno smaltimento. Alla comparsa dei falò era stato l'assessore all'ambiente Daniele Ialacqua a segnalare quanto stesse accadendo in quelle zone popolose, informando con una lettera ufficiale non solo Messina Ambiente e il Comando dei Vigili Urbani, impiegati stamani in prima linea, ma anche il Comando dei Vigili del Fuoco e per conoscenza il Sindaco Renato Corinti, la Prefettura, la Questura e il Dipartimento Ambiente e Sanità. L'appello è stato dunque raccolto e si è provveduto a ripristinare pulizia, ordine e legalità. A dire il vero le medesime circostanze si sono verificate già negli anni scorsi. L'apparizione e poi la scomparsa delle cataste era cosa già vista, ma per la notte di San Silvestro prontamente erano tornati in azione gli affezionati del bruciare le cose vecchie. Chissà se stavolta le cattive usanze sono state smontate definitivamente. E a proposito di Capodanno, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre due tonnellate di fuochi d'artificio e altro materiale irregolari, due imprenditori, uno cinese e l'altro italiano a Catania, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catania per commercio abusivo. Simona D'Urso. Con le festività cresce il commercio abusivo di fuochi d'artificio e altri materiali pirotecnici. È il caso dell'Interlando catanese, dove oltre due tonnellate di fuochi pirotecnici irregolari sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Catania nella zona commerciale di Mister Bianco nel comune di San Giovanni-la-Punta. Qui i finanzieri hanno scoperto che nei locali di due aziende operanti nel settore della vendita all'ingrosso di prodotti di vario gene erano detenuti senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza e con modalità non conformi alle vigenti disposizioni di legge oltre 372.000 articoli pirotecnici quali fontane luminose, artifici esplodenti del tipo raudi e batterie di fuochi d'artificio non regolari. I prodotti sequestrati erano custoditi unitamente a materiale infiammabile all'interno di depositi dove erano presenti anche elementi elettrici attivi. I titolari delle due imprese, uno di nazionalità cinese e l'altro italiano, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catania per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente, fatti specie per le quali, oltre all'ammenda, il codice penale prevede la sanzione dell'arresto fino a 18 mesi. Adesso parliamo della festa di Sant'Agata. È stato presentato oggi in conferenza stampa il programma dell'edizione 2018 della festa tra novità e conferme che renderanno l'evento religioso imponente nei contenuti, nelle previsioni della partecipazione. Sentiamo Salvo Falcone. La presenza al consueto pontificale del 5 febbraio del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Gualtiero Bassetti, il gemellaggio culturale con la città spagnola di Siviglia, nota per la Settimana Santa, l'adozione da parte dei Lions Club della Candelora dedicata a Monsignor Ventimiglia che sarà restaurata e il maggior coinvolgimento delle periferie, sono le novità che, è stato detto in conferenza stampa, renderanno ancora più grande la festa di Sant'Agata. Dalle 7 gennaio fino alle 13 febbraio la città accoglierà fedeli provenienti da tutta Italia, nell'ambito di una delle feste, da tutto esaurito, ritenute tra le più belle del mondo, ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco. Presenti in conferenza stampa anche il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, il Presidente Onorario del Comitato Festeggiamenti, Maira, Francesco Marano, al vertice dell'imponente e macchina organizzativa, ha precisato che è previsto il coinvolgimento della città con tutte le sue componenti più sane e attive. Questi gli eventi principali, Peregrinazio del Velo dal 14 gennaio, Giornata della Donazione il 21, Focus dedicato alle associazioni a Gatine il 28, poi in un crescendo di partecipazione, Consegna della Candelora d'Oro il 2 febbraio, Offerta della Cera e tradizionali giochi pirotecnici in Piazza Duomo il 3, Messa dell'Aurora e Giro Esterno il 4, mentre il giorno seguente la grande processione è il pontificale che vedrà come ospite d'eccezione appunto il Cardinale Bassetti che anche, come ha ricordato Monsignor Salvatore Cristina, firmando la lettera ufficiale d'invito, Arcivescovo Metropolita di Perugia, città che ha una chiesa dedicata a Sant'Agata. Si procederà l'11 febbraio con la Giornata del Malato e il 12 con l'Ottava, tanti gli eventi collaterali che saranno presentati in seguito. Palazzo degli Elefanti sarà aperto alle visite del pubblico tutte le domeniche a Gatine, poi avvenimenti nelle scuole, tre poli culturali dalla Badia a Palazzo della Cultura al Museo Diocesano, mostre fotografiche e concerti al Teatro Bellini. Completeranno la settimana dedicata alla prevenzione delle tumore al seno, quella contro il femminicidio e la sette giorni con protagonista lo sport e con le discipline paralimpiche. La festa di Sant'Agata sarà ancora una volta fortemente radicata al territorio, ancorata alla fede della sua gente e dalle spiccate possibilità di migliorare il marketing territoriale. Così appunto la presentazione, ma a margine della conferenza stampa abbiamo sentito il sindaco di Catania Enzo Bianco, l'arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina e il presidente del comitato festeggiamenti Francesco Marano. Sempre Salvo Falcone. Quest'anno abbiamo fatto un gemellaggio particolare con Siviglia, dove c'è la più grande festa al mondo della cristianità che è la Semana Santa, ci saranno una delegazione di sivigliani con le confraternite, quasi sicuramente verrà il sindaco di Siviglia Espada e stringiamo un patto di collaborazione e noi poi saremo alla Semana Santa a far vedere i cittadini catanesi cosa sono in grado di fare nella loro devozione alla Santa. Il canone è quello tradizionale, tutto sarà nel rispetto assolutamente della tradizione come è giusto che sia, le cose buone bisogna conservarle. Poi se ci sarà qualche possibilità di cambiamento importante nell'idea di Sant'Agata è il territorio e tutta la città, coinvolgere di più anche i quartieri della periferia. Questo è quello che io ho chiesto all'arcivescovo che è pienamente disponibile alla stessa identica sensibilità, far sentire ancora di più che Catania è la festa di tutta la città, anche dei quartieri che ogni tanto sono ai margini anche fisicamente. Abbiamo già tutto esaurito, già in questo momento tutti gli alberghi della città sono esauriti ma ci sono anche tanti altri bed and breakfast e altre opportunità che possiamo promuovere per far conoscere a tutto il mondo la nostra festa. Conosco da tanti anni il cardinale Bazzetti, abbiamo questo rapporto cordiale di amicizia, l'ho invitato a essere qui con noi, ha accettato subito e con tanta gioia e certamente per noi un onore poter ospitare il presidente della conferenza episcopale italiana. Siamo lieti di poter offrire a tutta la chiesa e all'Italia l'esempio di una giovane cristiana veramente semplante. Quello che abbiamo fatto è mettere insieme i protagonisti storici della festa, farli parlare tra di loro ma anche aprire ad altri settori che magari tradizionalmente non vivevano sempre la festa nel modo in cui gli altri la vivevano, ad esempio i club service della città, i Lions hanno annunciato che adotteranno una candelora e contribuiranno al suo restauro, ma non solo questo, faremo un accordo con la SAC, ci saranno tantissime iniziative anche quest'anno, molto di più dell'anno scorso perché evidentemente la festa raccoglie un interesse eccezionale in tutta la città. Cambiamo decisamente argomento e ci trasferiamo a Palermo, c'è chi fa la birra artigianale, chi produce, vende il cuoio, chi cucina mescolando culture e tradizioni diverse, sono le storie di chi a Ballarò ha trovato una nuova vita, siamo a Palermo in uno dei mercati storici della città per conoscere i nuovi mestieri, per noi Roberto Chifari. C'è una Ballarò che risorge come l'araba, fenice dalle sue sceneri, un mercato vivo, un quartiere di frontiera dove convivono giovani anziani, residenti e migranti, in un melting pot di culture che la rende unica. Una ricetta che non si può replicare perché Ballarò è il luogo che esprime al meglio l'anima multiculturale di una città che ha fatto dell'accoglienza il suo punto forte. A Ballarò per esempio lavorano quattro giovani ragazzi che dalla passione per la birra artigianale hanno deciso di farne un lavoro, una piccola fabbrica della birra nel cuore di Palermo dove un mastro birraio prepara la birra mescolando sapientemente gli ingredienti. Ballarac nasce esattamente quasi due anni e mezzo fa quando assieme io, Eugenio, Marco e Alessio già da tempo ci conoscevamo, avevamo questa passione per la birra. Palermo non esisteva fino ad oggi. È stata una decisione molto appunto dalla passione per la birra perché spesso ci capitava di girare non solo la Sicilia ma anche l'Italia e vedere queste realtà fuori e vedere quanto fosse bello poter produrre all'interno del locale e poter vendere la birra alla gente che veniva a visitare il locale, che veniva a passare la serata all'interno di questi locali. A pochi passi dalla centralissima via Macheda c'è il negozio di Massimo Milani che lavora, cuce, compassione, oggetti di pelle e cuoio. Per molti anni che siamo qua, insomma poco conosciuta no perché noi siamo anche un punto di riferimento oltre ad essere un laboratorio, siamo una specie anche di centro sociale perché siamo un punto di riferimento anche per la comunità LGBT perché insomma siamo tra i fondatori dell'Arcicay quindi è un laboratorio ma non è mai stato un luogo solo di affari diciamo così c'è anche il lato umano, il lato di accoglienza di tutte le persone che vengono anche le persone insomma che trovano verso di noi per la nostra disponibilità anche un punto di riferimento umano oltre che appunto commerciale. Adesso parliamo di sport e integrazione, questo è il nome del torneo di calcio a scendere in campo a Cicastello in provincia di Catania le squadre composte dai richiedenti asilo e dai volontari della rete di imprese sociali siciliane. Damiano Scala. Il calcio come una filosofia di vita, come un linguaggio comune per abbattere tutte le barriere. Niente differenze di pelle, razza, cultura e religione ma solo una palla da mandare in rete per risultare con tutti i compagni di squadra. Questo è l'obiettivo del torneo Sport e Integrazione organizzato dall'ufficio di accoglienza e integrazione del Consorzio Solco che quest'anno giunge alla terza edizione. Come ogni anno l'ufficio accoglienza e integrazione del Consorzio Solco nell'ambito dei progetti Sprar ha deciso di organizzare una giornata di festa all'insegna dello sport quindi un modo per riunire tutti i ragazzi dei nostri Sprar e non perché ci sono anche squadre che vengono da altre comunità e appunto per stare tutti insieme, fare festa e fare capire anche al territorio che accogliere e fare accoglienza è una cosa positiva e non è solo fine a se stesso. Quindi per noi l'integrazione è importante e lo sport è un grande veicolo per noi. Promuovere il percorso di inserimento e integrazione sociale in tutte quelle strutture gestite dalla rete siciliana. Qui trovano dei progetti che li accolgono e cercano di integrarli sul territorio attraverso le scuole di italiano, attraverso borse lavoro, attraverso uno staff di persone che si occupa di loro a 360 gradi aiutandoli a ritrovare l'autonomia che purtroppo hanno perso causato appunto da un viaggio traumatico che hanno attraversando vari stati e arrivando qui attraverso i barconi che vediamo tutti, siamo costretti tutti a vedere quotidianamente e quindi cerchiamo di ricostruire un po' la fiducia in se stessi e nell'essere umano che purtroppo hanno perso durante tutto il percorso che li ha portati poi qua in Sicilia. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria nella seconda parte, parleremo di sport. Natale a Caltagirone, tra fede, arte, folklore e cibi della tradizione. Sino a 7 gennaio, tanti eventi da non mancare. Card dei presepi artistici, musei, mostre, mercatini, concerti e spettacoli in strada. Il 17, 25, 26 dicembre e 6 gennaio, il presepe vivente. Natale a Caltagirone, patrimonio dell'umanità, un tuffo in un'atmosfera piena di fascino. www.comune.caltagirone.ct.it www.comune.caltagirone.com www.comune.caltagirone.com Ben trovati, parliamo di sport. Iniziamo proprio dal Palermo e ascoltiamo le interviste post-gara della partita Palermo-Salernitana. Sentiamo. Una partita equilibrata, che poteva essere decisa da un episodio. Nel loro primo tempo hanno fatto un tiro in porta, una parata ravvicinata in diagonale. C'è stato il Palermo, il primo. C'è stato pure che vieni a giocare una partita contro il Palermo e ti tirano una volta in porta nel primo tempo. Però poi altre cose, onestamente, non ne ho viste. Nel secondo tempo, invece, quando poi siamo rimasti in dieci, ho visto la Targiniteana che faceva la partita. Il Palermo andava di ripartenza. Ed è un peccato, perché poi ci sono stati degli episodi strani. Anche il primo gol è avviziato, a mio avviso, da un episodio un po' particolare. Ma forse la palla era meglio metterla fuori. Non mi è piaciuto sinceramente solo una cosa stasera. I dieci minuti dopo l'espulsione di Vitale, ecco, quei dieci minuti non mi sono piaciuti, perché sembrava quasi che noi fossimo 5-0 un minuto dalla fine. Ecco, questo bisogna migliorarlo sicuramente. Tutti lo sanno. Ho la possibilità di avere dei giocatori che hanno questo senso di autocritica, lo sanno. Però devo anche dire che questo gruppo qui ha fatto un percorso incredibile. Volevo dimostrare che ci potevo dare una mano e che speravo che arrivasse finalmente il gol, perché ho avuto poco minutaggio sia per l'involuzione, sia perché la squadra è tanto forte, soprattutto davanti con il nostro capitano. Quindi sono molto contento. Adesso parliamo del Catania. A 24 ore dalla sfida contro la Casertana, ultima gara di questo 2017, è intervenuto nei nostri studi il portiere rossazzurro Matteo Pisseri, grande protagonista di quest'anno. Sentiamo cosa ha detto sul prossimo impegno stagionale con Giovanni D'Antoni. Giornata di vigilia in Casa Catania. Domani gli etnei di Cristiano Lucarelli affronteranno l'ultima gara di questo 2017. Il match in programma allo stadio Massimino. Alle ore 14.30 contro la Casertana è l'ultimo ostacolo prima della lunga pausa invernale. Gara che potrebbe regalare anche sorprese in classifica, visti gli scontri diretti in programma dagli altri campi. I rossazzurri, che arrivano alla partita del Massimino in forma smagliante, potranno contare sulla confermata coppia d'attacco ripacuriale, tandem da sei gol nelle ultime tre partite, l'apporto di un centrocampo virtuoso e del suo estremo difensore Matteo Pisseri, che è intervenuto nei nostri studi e ha voluto parlare del momento della squadra, della consapevolezza maturata dopo il derby col Trapani e dei prossimi obiettivi. Sicuramente stiamo facendo un ottimo campionato. La partita di Trapani ci ha fatto capire che non abbiamo nulla in meno di nessun altro, però anche se l'abbiamo perso. Sarà comunque un girone di ritorno molto impegnativo, dobbiamo continuare secondo il rendimento dell'andata, cercando di migliorare qualcosina. Con la Casertana sarà una partita molto difficile, come del resto tutte le partite, partite facili non ce ne sono e dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Il match di cartello della ventunesima giornata sarà quello del provinciale tra Trapani e Lecce. Pisseri e compagni seguiranno la sfida? Trapani-Lecce sarà una partita importante che a noi ci riguarda, ma non più di tanto. La guarderemo, sì, dopo l'allenamento ci metteremo, penso a guardare la partita, più che altro per curiosità, ma senza sperare in nessun risultato, perché noi dobbiamo fare la nostra strada. Il 2017 è stato in chiaroscuro, molto meglio la seconda metà. Che 2018 ti aspetti e che augurio vuoi fare a te stesso e a tutti i tifosi del Catani? L'anno scorso è stato un anno molto impegnativo, avevamo poche certezze, era l'anno della ripartenza, per cui poi con la penalizzazione è stato molto impegnativo come anno. Quest'anno siamo partiti senza penalità, col piglio giusto, con un gruppo di ragazzi forti, tutti molto attaccati alla maglia, con uno staff preparato, per cui ce la metteremo tutta per riportare a Catania il calcio che conta. La partita del Massimino sarà come di consueto oggetto di commenti e riflessioni nel corso di Febbra 90, il format sul calcio professionistico di Ultima TV, che proporrà a partire dalle 14.20 collegamenti in diretta pre-partita a gara in corso insieme a tutte le interviste ai protagonisti dalla zona mista. E la ventunesima giornata di campionato cascatterà questo pomeriggio alle 18.30 con Trapani Lecce, partita decisiva per i trapanesi se intendono rimanere attaccati all'obiettivo promozione. Giovanni D'Antoni. Tensione alle stelle, è il big match del ventunesimo turno ed è probabilmente la sfida fin qui più importante di questa stagione. Trapani Lecce è molto più di una semplice partita e la chance del riscatto per i Granata l'opportunità di rimarcare la propria supremazia per i Salentini il tutto con il Catania che sarà spettatrice attente e farà di tutto per approfittarne. L'anticipo del provinciale, fischio d'inizio alle 18.30 e soprattutto l'ultimo capitolo di questo 2017 uno stimolo in più a quelli che già di per sé ci sono a condire questa attesa gara. Il Trapani ha infatti dato cenni di flessione nel mese di dicembre le ultime tre uscite hanno portato soltanto due punti un bottino scarno che non basta per tenere il passo delle prime Catania e lo stesso Lecce, distante addirittura otto lunghezze. Calori si affiderà ai suoi uomini migliori per contrastare la capolista difesa a tre che sarà composta da Legittimo, Fazio e Silvestri ritorno prezioso quello di Palumbo in mezzo al campo mentre in attacco sarà da confermare il duo Reginaldo-Murano. Il risultato di questa gara non deciderà il campionato afferma il tecnico giallorosso Liverani che dal canto suo si affiderà a Caturano e Torromino davanti 12 gol in due in questo campionato alcuni dei quali contro la Virtus Francavilla nel 4-0 dello scorso sabato. Intanto la vigilia della partita è stata scossa da un atto vandalico ai danni dei Salentini un agguato nella notte di un piccolo nucleo di ignoti ha colpito il pullman del Lecce distruggendo, come è possibile vedere dalle foto il mezzo della squadra giallorossa. Fortunatamente nessuno era a bordo al momento della sassaiola e non compaiono feriti. L'episodio, che è stato segnalato alle autorità sembrerebbe per alcuni essere motivo di vendetta da parte di alcuni tifosi trapanesi per il furto e i loro danni di uno striscione da parte di ultras leccesi risalente allo scorso novembre. Ma in metafora è stata più calzante il 2017 si chiude col botto Trapani-Lecce può essere decisiva può cambiare ancora una volta la storia di questo campionato. E sempre Giovanni D'Antoni ci parla del campionato di Serie A2 di calcio A5 che è momentaneamente fermo per la pausa invernale il 2017 però vede in alto due realtà siciliane in scesa parliamo di Maritime Augusta e Meta sono le prime della classe le migliori del raggruppamento le squadre che fin qui hanno fatto la differenza nel campionato di Serie A2 parliamo di Futsal ci sono due siciliane da attirare a sé le luci della ribalta Maritime Augusta e Meta calcio A5 gli augustani hanno infranto ogni record primo posto mai messo in discussione in virtù della splendida striscia di vittorie consecutive in questo avvio di campionato nove vittorie su nove l'attivo di 54 gol a fronte delle appena otto reti subite sono soltanto alcuni numeri che certificano un gruppo solido e di grandissimo spessore merito del tecnico spagnolo Michi García Belda è il progetto più che ambizioso del presidente Giuseppe Ciccarello il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato cercare di vincere la Coppa Italia e fare bene in Coppa di divisione il Maritime è una società solida che sta andando avanti ha un progetto chiaro due mister del quale siamo estremamente soddisfatti 14 giocatori che orbitano nella rosa della prima squadra del quale siamo soddisfatti il progetto va avanti con le stesse persone sperando di primeggiare anche nella serie che disputeremo che speriamo sia la serie A segue la capolista un'altra realtà siciliana anch'essi in ascesa e affamata di risultati la meta è al centro di un chiaro progetto di crescita e sta dimostrando in virtù dell'attuale secondo posto in questa stagione di essere avversario temibile e concreto per tutte coach Samperi il vice Scandurra guidano un gruppo competitivo che annovera giovani ed elementi di esperienza io sono diciamo penso che la cura del dettaglio alla fine alla lunga faccia la differenza il lavoro il sacrificio la passione che mettiamo credo che alla fine premi tutto quello che stiamo facendo sia noi come staff e i ragazzi che con determinazione con grande volontà ci stanno seguendo e poi vanno a trasformare quello che facciamo in settimana durante la partita ancora una settimana alla fine della lunga sosta invernale le siciliane del futsal torneranno in campo fissata per sabato 6 gennaio la ripresa del campionato con la dodicesima giornata del girone B che vedrà i puntesi di scena in casa al campo polivalente contro Bisceglie una trasferta invece segnerà il debutto nel 2018 per il Maritime che sarà ospite del Ciampino ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito da parte mia l'auguro di una buona giornata Grazie a tutti